Salve a tutti, sono Luca Bruno e sono felicissimo di essere ritornato presso il Teatro Nazionale Romeno di Cluj-Napoca, stavolta per interpretare il ruolo di Gianni Schicchi. Questo sarà il mio debutto in quest'opera, che sento molto legata alla italianità. È forse una delle opere più importanti di Puccini da un punto di vista del rinnovamento del linguaggio e, insieme alle altre due, Tabarra e Sor Angelica, è un'opera di pregevole coinvolgimento. È una commedia divertentissima, vi aspettiamo. Io sono felicissimo di fare questo debutto di questo grande ruolo baritonale. La recita sarà il 29 maggio prossimo alle ore 18 e 30. Vi aspettiamo tutti e non vediamo l'ora di avervi in teatro. Grazie. Grazie.